Ecco siamo al punto di attracco dei traghetti di Ladig e da qui faremo un video su la cittadina di La Paz che è l'unica cittadina che si trova su questa isola, questa è l'uscita Qua a sinistra abbiamo la Seychelles Port Authority e gli uffici solo della Cat Rose che opera tra Ladig e Praslen quindi non ci sono gli uffici della Cat Co Co Ecco qui si va verso il centro di La Paz mentre da quest'altra parte si va verso la zona che porta poi a Hans Patat Ecco questa è l'unica zona che di sera è un pochettino più illuminata Ci sono un paio di banche, dei cambi, questo take away e un paio di ristoranti Poi qui c'è un affitto biciclette Poi qui sulla sinistra c'è la stradina che porta poi a fare tutto il giro di La Paz è una specie di circonvallazione Poi qui c'è la stradina che porta poi a fare tutto il giro di La Paz Ecco qui siamo di fronte alla scuola Siamo di fronte alla commercial bank Ecco siamo arrivati all'ospedale Siamo arrivati all'ospedale Ecco qui siamo di fronte alla scuola Siamo arrivati all'ospedale Ecco qui siamo di fronte alla scuola Grazie a tutti.